Il Camerino ha riempito l'Italia in questi anni di immigrati criminali e di tasse e quindi il 4 marzo noi cambieremo completamente il modo di vivere in questo paese, non saranno elezioni, io chiedo agli italiani una scelta di vita, sarà un referendum, non si sceglie fra questo o quel partito, questo o quel leader, si sceglie un certo tipo di Italia, noi la pensiamo sicura, pulita, con un lavoro a lentezza, Renzi ha fallito, Renzi in qualunque altro paese europeo per dignità non sarebbe neanche ricandidato, tocca agli italiani fare giustizia e fare pulizia, io penso a un paese con ordine, regole, sicurezza e serenità, poi di Renzi fra due mesi non ci sarà traccia e non ci sarà memoria alcuna.